Ho i cuori personalizzati su Minecraft! Oh, prendiamolo! E mi si è ricaricato un cuore! Chissà cosa può fare questo! Ogni volta che completerò un nuovo advancement, potrò prendere un nuovo cuore. E guardate qua. Non chiedetevi perché ho l'ender chest. Oh no, sta arrivando notte, devo rubare tutto il cibo qua. Vabbè dai, ripianto perché sono bravo. Aia! Comunque mi sa che prima ho preso un advancement. Raga, questo nuovo cuore mi dà l'armatura, anche se non ce l'ho addosso, come vedete da qua. Questi cuori sono potentissimi, se li volete in giro, anche nella vita reale dovete lasciare like al video, e commentare con ciao nei commenti, così mi posso mettere il cuoricino nei commenti. Quello super forte. Comunque ho preso l'advancement della pietra, e quindi dovrei prendere un altro cuore. Questo cuore che sto per mangiare ti dà tipo una pozione. Ehi, abbiamo lo zombie! Vediamo se mi faccio colpire. Aia! Raga, guardate! Sto coso praticamente ammazza... Vedete? L'ho lasciato io con i miei cuoricioni. Bello! Allora, io qua vedo il nether. Penso che è una pessima idea andarci, però tecnicamente noi abbiamo i cuori. E se andiamo possiamo effettivamente... Eh, abbiamo un altro coso! Stavo per dire, possiamo metterci altri cuori. Questo cuore è il totem del non morto. Oh, ma guarda tu! Ora funziona! Bene! Possiamo andare direttamente nel nether. Ragazzi, allora, a parte che abbiamo fatto un nuovo advancement. Ho mangiato il cuoricione. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ah, ci picchia raga, adesso io come faccio a scapparmela? Però posso utilizzare la strategia e picchiarli e farli andare. Avete visto? Praticamente sto qua mi può uccidere perché mi ha usato il totem, raga. Mi ha usato il totem sto qua, ma vi rendete conto? Cioè, praticamente mi ha protetto col totem assurdo a sta roba. Ok, scappiamocene via. Ah, aiuto! Bello del quarzo, non mi serve a niente, dato che non è la mia vanilla. Scrivetemi se volete che facciamo una vanilla, comunque. Sarebbe molto bello. Cioè, beh, la chiamiamo vanilla, ma tipo qualcosa di più interessante, eh. Allora, tecnicamente qua ho trovato una fortezza, il che non è propriamente positivo. È positivo, ma in parte, perché praticamente la fortezza sanno tutti molto bene, che è super pericolosa. E quindi questa fortezza, dato che è pericolosa, potrebbe uccidermi. Cioè, il discorso è logico. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. E mi ha evocato però i signori, adesso ve la cavate male voi. Vedete adesso? Oddio, li sta attaccando, assurdo. Guardate, raga, che figata sta roba. No, vabbè, io li vogliono. Raga, ve l'ho detto, se li vogliono tirare nella vita reale dovete lasciarla ai, perché io li voglio troppo adesso. Cioè, io ve lo dico, se sopravviamo dal Warden abbiamo vinto tutto. E comunque posso andare a prendere un altro cuore. Molto bene, non so cosa faceva questo cuore, ma... Quello, raga, è uno sculcoso. Eh, questo è pericoloso, eh, perché se... Questo qua può far sponare il Warden, e non sto scherzando, questo è proprio il responsabile. Raga, raga, che schifo, che schifo. Ok, no, non potevo sopravvivere in queste condizioni, mi spiace. Anche con tutto il bene del mondo, ma non ce l'ho fatto. E ci vediamo al prossimo video, ciao!